Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Queste parole del Signore ci fanno vedere la missionarietà della Chiesa. Contempliamo la testimonianza di santità di Fra Junipero. Junipero Serra è come un missionario lavoratore. Non era una città, solo voleva fare la wille di Dio. Voglio creare una comunità più profonda e relazionale della comunità internazionale. La comunità internazionale. La comunità internazionale. La comunità internazionale di California. E' stato un progetto e advogato per gli indiani in California per il punto di mettere la sua vita a rischio. Non c'è un rapporto con il rischio di rinforzare di 18th century Spanish colonialism. C'è un problema di identificare Junipero Serra come un scapegoat. senglad perché anche alle importanti informazioni delle informazioni che abbiano una grande pioggia di rinforzzare il rinforzare delle culture. St. Junipero Serra è stata un'eVita di rinforzare delle caratteristiche e che resistono i abusi di colonizzazione. Dopo due decadene prima che la Bille di Rite era aggiornato alla U.S. Constitutione, Junipero Serra ha avuto una Bille di Rite per i Nadevoli, conoscendo loro come i figli di God. Ora che Junipero Serra ha stato canonizzato da Pope Francis, e in light di la violenza e la half-truth attempting a destroyer la sua legazione, è il momento di sete il record straight about this holy missionary priest and all that he accomplished.